Musica Ciao a tutti e bentornati su Football Manager 2018 Football Zoom sono impappocchiato nel dire Football Manager 2018 Ma va tutto bene Oggi, domenica Spero di pubblicarli giusti, se no succede un finimondo Sto dicendo sempre il giorno L'ho giocato ovviamente un briciolino qualche giorno prima Oggi, domenica Ovviamente non c'è molto da parlare del campionato di quello che è appena passato Perché sostanzialmente di quest'anno abbiamo solamente perso i rigori La sfida per la Coppa E giù, scusatemi Per la Supercoppa insieme all'Eastern Summers C'è da giocare la prima partita Forse dovrei smettere di stannutire C'è da giocare la prima partita contro l'Oclan City Insomma, partiamo subito Abbiamo avuto un sorteggio molto fortunato Prima l'Oclan City, poi il Team Wellington, poi l'Eastern Summers La prima, la seconda e la quarta No, la prima e la seconda forza come forza Perché il Team Wellington era arrivato bene E la finalista dell'anno scorso Alla grande proprio, veramente alla grande Possesso palla abbiamo avuto un 48% Abbiamo fatto più tiri in porta, insomma Eh, lo so Ma io sono un cretino Avessi guardato le regole Avrei visto che probabilmente non avrei cambiato nessuno Perché avrei tenuto a Isa e Just Che erano giocatori Che probabilmente avrebbero tirato miglior rigore Sono veramente un cretino Sono stato veramente un cretino a perdere quella partita Anche perché avevamo veramente giocata bene Oh Nessun progresso Su Sam Drake Ma chi se ne frega No, di David Masters Che non gioca Potremmo anche farlo fuori Sono dei giovani inutili Che non giocheranno mai per ora Allora Oh, livello di sostegno eccezionale Finalmente mi vogliono bene Più adatto alla squadra B Ma Tirali su Webster riprende ad allenarsi con i compagni David Masters Che francamente non mi interessa E' infortunato Direi che ci possiamo portare Maciucca Avevamo promesso a Moloni Di giocare qualche partita come titolare Ma direi che Non è il caso che ci succeda Piantatela di chiedere patentino Perché mi incazzo Perché patentino lo voglio io Ma non mi hanno dato i soldi Per poterlo prendere E quindi per questa volta Il primo anno Non saliremo più di patentino Cioè il titica veca Che non aveva un soldo bucato Ci ha pagato due patentini Loro non ce ne pagano neanche uno Webster ovviamente Non lo facciamo fuori Anche perché è il nostro primo La nostra prima riserva In Come terzino Stavo guardando Come gioca L'Oklan City Come ha giocato con il Canterbury United Ma questa è la partita Per il terzo posto dell'anno scorso Cos'è? Vabbè Va bene così Probabilmente ci daranno Veramente 100 contro 1 Per la vittoria Una cosa inumana Loro sono anche peraltro Adesso campioni in carica Della Oceanic Premier League Adam Luke Wade Moloni Manca la forma partita Seriamente a corto di forma partita Impossibile apertura stagionale Abbiamo 1-33 contro 8 Ho una squadra in mente Ho qualche alternativa Per rendere le cose più interessanti Credo che la squadra Stia crescendo molto I ragazzi lavorano insieme Verso la giusta mentalità Va bene Si sono allenati in modo brillante Non vedono di giocare la partita Sì vabbè Josh Marks Sarà fondamentale Sarà fondamentale Per i nostri successi Intendo regolare Il regalo A povero di alman Anche quel tipo di record Ma col cazzo Che lo potremmo relegare Cioè l'anno scorso Ne abbiamo vinta Vinta una Per culo Tipo veramente Se non sbaglio Passando in vantaggio E poi chiudendoci In difesa In maniera vergognosissima Subito due pretendenti Che si scontrano E una l'abbiamo persa Che è Team Wellington 2-0 Subito così inizia Per cercare di ripuntare A riprendersi Il titolo In Team Wellington Nell'Oklan City Probabilmente sarebbero stati Due 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 Ottimi risultati Due ottimi Due ottime squadre In cui andare però Obiettivamente è vero che Andare ad un'altra squadra Senza Lasciando Leamington Wonders Nel nostro campionato Sarebbe stato un po' Una tristeza Dopo aver vinto il campionato Peraltro eh Per carità Una cosa non ripetibile Però Allora Maciuca Al posto di Van der Hoeven Perché Tobin Non è registrato? Un giocatore in formazione Verrà registrato Sì Registami pure Tobin Spogliatoio Parla alla squadra Buona fortuna ragazzi Andati in campo E stupite tutti Eh più di quello Vediamo un pochettino Cosa riusciremo a fare Uh siamo in bianco Benissimo Debenham Mohamed Questa è la prima azione Non succederà nulla Debenham Gondue Ci facciamo già subito Intercettare i lanci lunghi Woodlock Mohamed Wilkins Una volta credo di aver visto Un gol su azione iniziale Tipo questo Wenzel Hall Speriamo che la chiuda Una volta ho visto un gol Su azione iniziale Spero di non rivederlo adesso Non parlo più Giuro che non parlo più Abbiamo preso gol Dopo 40 secondi 40 Dannati Secondi Secondi Vabbè Ecco in questo Non parlo più Cioè non è che non posso non parlare più Però è stata una cosa orribile O'Brien Woodlock Lanciano Wenzel Hall Perché va a scatti Quando attacca Wenzel Hall Cioè ma cosa ci stanno facendo Ci stanno facendo a pezzi Ci stanno facendo a pezzi Due minuti due gol Prima eravamo Ah sì perché siamo andati sotto A parimento col Canterbury Ma loro Si chiamano Hanno un nome più Più basso Più alto Quindi rimangono su per noi Devin Ripartono subito loro Passati 4 minuti e 20 Stanno rischiando di fare il terzo gol De Vries Chiuso Oueson Spara fuori Due minuti Stiamo parlando di cinque Cinque minuti Stiamo parlando di due gol Viceversa Poteva essere anche il contrario Ancora Calcio di punizione Oueson De Vries De Vries Che vabbè Lottel Oliver Minchè è il nono minuto È il nono minuto Davies Oueson Non riusciamo ad andare a fare un'azione davanti Wenzel Hall De Vries De Vries Arriva Wallblock Oueson Madonna La ribattiamo fuori La ribattiamo fuori Abbiamo fatto un Tre falli Sì in effetti Dovremmo iniziare a moderarci Loro Due tiri in porta Due gol E cinque tiri in totale Noi non abbiamo ancora Passiamo a malapena Al centrocampo Non è che era una partita Che si poteva perdere Però se non iniziano a perderla Subito così De Vries Oueson Mitchell Mitchell Ribattuto Solo che se mi metto a spingere Ho paura che ci venga fuori la goleada Stanno giocando solo loro Mitchell De Vries Woodlock Ci pensa Oliver Proviamo a passare almeno a standard Non c'è un lungo per Davies Anzi Woodlock Largo per De Vries Wilkins E vabbè Qui anche culo Perché la palla è stata deviata Eh però Porco cane Eh che cazzo Non deve neanche rivederlo 25 minuti Si è assoluto di tre gol O'Brien Dentro per Pratt Che la mette dentro Gol Oh Almeno Almeno il gol della Oddio Il gol della bandiera 25esimo 3 a 1 Un bello schema Finalmente Quando non la tiriamo in porta Sti palloni Pratt Boom Vabbè 3 a 1 Ripartiamo a giocare Va 29esimo Trentesimo Non c'è un primo No Hanno fatto un gol A testa Con I loro avanti Berlanga Manca uno solo 4 giocatori offensivi Berlanga Just Just la mette a terra Potrebbe involarsi No Preferisce aspettare che salgano altri Anche una buona scelta Mohamed Gondue Debenam Debenam per O'Brien 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 Gol 3 a 2 3 a 2 Grandi ragazzi Grandi ragazzi E la riapriamo così 33 minuti 5 gol Ma che cacchio di partita Sta venendo fuori Cioè adesso veramente La perdessimo Anche chi se ne frega Bellissima stazione Tutta in velocità Gravi ragazzi Finalmente Oliver Mitchell Always on De Vries De Vries Woodlock 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 Oliver la trattiene Questa volta non ce la mettete dentro Santo cielo Ancora Oliver Just Debenam Gondue De Vries Ci ruba il pallone Malamente De Vries Va al tiro Da lontanissimo Va bene Ci facciamo rubare Sti palloni in difesa In un modo inumano Oliver Lungo per Just Bevin Forse ci voleva Webster Qua però appena è rientrato Dalla cosa E non possiamo farci nulla Always on Nesseler Bevin Always on De Vries De Vries Bevin Wilkins Mohamed Bravissimo Evitiamo di far cazzate Mohamed Vai Oliver di fermarla Proprio sulla linea di porta Magari Oddio Where's the holes Woodlock Woodlock Fuori Fuori così Va bene Stiamo riprendendo un po' il pallino Berlonga Woodlock Bevin Always on De Vries Wenzel Health Bevin Lunghissimo Da lontanissimo Non si risolve Nulla Quarantaquattresimo Quarantacinquesimo Quarantaseiesimo Bah 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 Ragazzi Sono abbastanza contento di voi Devo dire Per ora Bravi Bravi State giocando bene Mattolio Verrà perso molti palloni Il portiere Sento cielo Pogliatoio Parla alla squadra Non stiamo giocando male Se continuerete a giocare A impegnarvi a fondo Potremmo vincere Sì non stiamo giocando male Anche se stiamo perdendo 3 a 2 Davies Woodlock Show recupera il pallone Va bene così Bravi che chiudete Ci voleva Webster Qua in difesa C'è poco da fare Ah Show tra l'altro è a pezzi Solo che porco cari Non ce l'abbiamo Un difensore sinistro Gondue Gondue Debenham Di testa arriva Show Sembra esasto Ma chi ci mette al posto? Moloni Centrocampista Cambio modulo Provo a cambiare modulo A questo punto Lasciamo ancora un attimino Show 67 Se scende ancora Diventa rosso Lo cambiamo Zubi Karai Show Non abbiamo proprio terzini Di riserva Un difensore centrale Just Just Perde il pallone malamente Wenzel Olse Potrebbe involarsi Sta venendo su in tantissimi Ma lui preferisce sprecare tutto E lanciare nel nulla cosmico Oliver Palone lungo Just Davies Arriva Pratt Pratt si invola Pratt Goal 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 3 a 3 3 a 3 Mamma mia ragazzi 3 a 3 Mamma mia Che cosa abbiamo fatto? 3 a 0 3 a 3 Pratt Boom Bravi ragazzi Siamo su standard Siamo decisamente meglio Qua che contropiede Always on Calcio d'angolo Penso che Oliver Abbia tirato via Io sono rimasto in silenzio Perché Oliver Ha tirato via una palla Che Eri in umano Tirare via Woodlock Madonna Berlanga 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 Always on Fuori Potrei mettere un difensore Al posto di show E dargli solo compiti difensivi Scopriamo Scopriamo quella fascia Di attacco Ma pazienza De Vries De Vries E loro si sono risvegliati Tattiche Vediamo un attimino Invece che terzino Facciamo terzino Con compiti di difesa Per ora Luca è fattibile Metterlo al posto Minchia Non è capace Johnson neanche Mohamed Neanche Margez Johnson Posto di Luca No Mohamed Al posto di Johnson Per creare una situazione Del genere A te ti lascio Terzino fluidificante Verso l'attacco A te ti metto A fare Il terzino Marcatore Tremò anche Far così Perché non ce la fa Veramente più Mi spiace stravolgere La squadra Però è Sogno una condizione In questo momento Terribile Berlanga Woodlock Mitchell Non abbiamo veramente Un terzino da quel lato Abbiamo Madonna Questo è gol Che culo Che culo Che culo Ce l'ha tirata addosso Ce l'ha tirata Wenzel Holtz Always on Woodlock Rubiamogli sto pallone Rilanciamo lungo Ma non c'è nessuno Ci siamo proprio un po' Chiusi adesso Woodlock Bevin Stiamo subendo un attacco Senza paragoni Pratt e ripartiamo Ripartiamo con Just 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 per favore Valla a chiudere Just Gli lo tira addosso Mamma mia Se facciamo il 4-3 qua Pratt Pratt Pallone dentro Despise Aiza Recupera questo pallone Settantunesimo Luque Luque Debenam Luque O'Brien Pratt Bravissimo Recuperiamo il pallone Va bene Zubi Karai Margez Tiene dentro il pallone Nel suo ruolo Piede invertito O'Brien Aiza Margez O'Brien ancora Pratt Margez Aiza Debenam Niente da fare Davis Ma Amade In un ruolo Non suo Più che altro Non ho più Ma Amade In mezzo Wenzel Holt Wenzel Holt Oliver La chiude Madonna Cosa ha fatto Oliver Gondue Madonna Cosa ha fatto Oliver Ripartiamo Da Margez Che continua A spingere Anche dall'altra Fascia Però sbaglia Il passaggio Parat Pratt Per Luque Che tira indietro Per Oliver Ripartiamo dal nostro Portiere Fai un lancio Lungo decente Gondue Gondue Per Debenam Debenam Dentro per nessuno Però Wenzel Holt Wilkins Stanno attaccando Un po' troppa gente Wenzel Holt Potrebbe tirare da fuori Si è un casino In area Pratt Riesce a liberare In qualche modo Già sta Isa Ormai Sono saltati Tutto È saltato Tattiche Ma sentite Buttiamo dentro Moloni Dai Porto di Gondue E a Isa Lo invertiamo Di Fascia Poi Maciuca Al posto Di O'Brien Va bene Vai Vai Mettiamo gente fresca Proviamola Proviamola Almeno Anche se un 3 a 3 A casa dell'Oclan Sarebbe a fare Non importa Anche se adesso Perdiamo Abbiamo fatto Una partita Strepitosa Con tutti i problemi Che abbiamo avuto Tra cui il fatto Di essere in questo momento Senza un terzino Destro Mistro Bravo Oliver Partitone di Oliver Partitone Ci ha salvato In un sacco di occasioni Ci ha salvato In un sacco di occasioni Lancio lungo Che cazzo è Ce la giochiamo Tra portiere Qui non è neanche portiere Era un difensore Oliver Ancora Oliver Lancio lungo Just 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 Potrebbe metterla dentro Pratt La mette giù Moloni Gol Moloni Gol Moloni Gol Madonna santa Moloni Messo dentro E segna il 4 a 3 Segna il 4 a 3 Segna il 4 a 3 Mamma mia Cosa abbiamo Cosa abbiamo fatto Da 3 a 0 4 a 3 Da 0 3 a 4 3 Mamma mia Moloni Gol Moloni 84 a 4 a 3 Cosa non abbiamo ribaltato Pratt Pallone dentro Just Vora il portiere Vora il portiere Cosa abbiamo ribaltato 85 esimo Eccid pazienza Un'emozione incredibile Oliver Just Maciuca Pratt Moloni Moloni Margez Lungo Per Zubicarai Cioè Non era per Zubicarai Ovviamente Ma insomma Zubicarai È intervenuto Oddio Io non cambio più Da standard A questo punto Debenam Ancora lungo Ci sono spazi Ma ci sono spazi Anche per loro Picard Pallone dentro Per Wenzel Che sbaglia ancora Che sbaglia ancora Ma quanti ne ha sbagliati Di gol Quest'uomo Quanti gol Ha sbagliato Quest'uomo Oh Hanno fatto solo Di tiri fuori Ottantanovesimo Cinque minuti Di recupero Ancora sei minuti Maciuca Pratt Debenam Al tira da fuori Tieni questo pallone Che siamo in avanti Tieni questo pallone Cinque minuti ancora Quattro minuti e quarantacinque secondi Anzi Wenzel Holt Picard Picard Oliver La blocca Wilkinson Ributta dentro Isa Cosa cazzo ci fa Isa In difesa Ma va benissimo Mitchell Hudson Lunga E scorre il tempo Novantaduesimo Novantatresimo Novantaquattresimo Oliver Lancio lunghissimo Per dove non c'è nessuno In riva George Vice a intercettare Azzon Wigonghi Wenzel Holtz Wenzel Holtz Wilkins va a chiudere Manca un minuto Berlonga Wilkins Wilkins Berlonga Woodlock Mitchell Mitchell Fuori Calcio d'angolo Potrebbe essere l'ultima emozione Della partita Cerchiamo di spazzare Questo calcio d'angolo 10 secondi Woodlock No Pareggio Eh ma se lo son meritato Adesso pari 4 pari 4 dannato pari Porco cane Di sulla linea di porta Giorgiovic da solo E vabbè Pratt Margez Moloni Che ha fatto gol Entrato bene Pratt Margez È lungo Per noi Non c'è nessuno Ed è finita Quattro pari Mamma mia Che partita Che abbiamo fatto Mamma mia Quattro pari Va benissimo Guardate ragazzi Vero che eravamo Il 4 a 3 Ci ho sperato Che portassimo a casa Abbiamo preso il gol Gli ultimi 10 secondi Però veramente Una partita del genere Da 3 a 0 A 4 a 3 E poi pari Gli ultimi 10 secondi Ragazzi Appassionato Grandiosi Che rimonta ragazzi Una prova d'orgoglio Di cui dovreste andare Fieri Mamma mia Che partita Che partita La partita Che se il maestro Che pareggiavo Nella Sarei già stato contento Ma così sono stato Ancora più contento Oh Sto per iniziare La conferenza stampa Non capisco Come si è arrivato A quel numero Nella prima volta Che ci costa caro Assolutamente epica Veramente una partita Epica Mi piacerebbe molto Averlo in squadra Forse solo Gliel'abbiamo Non l'abbiamo giocato Come avrei voluto No Gliel'abbiamo resa facile Mirko Djordjevic L'è stato davvero deprimente E mortificante No Imparerà dall'esperienza Non può essere deprimente Minchia Penso di sì Forse tutto sommato Il risultato è giusto Dai è giusto Insomma Giocatore di qualità Non rimane molto da fare Quando giocano così bene Pratte ha impressionato Due gol e un assist Va bene ragazzi Direi che per oggi è tutto È stata una partita Mostruosa Mostruosa Abbiamo iniziato Un esordio Che non poteva essere più difficile In casa dell'Oclan City Ed è venuta fuori Una delle partite Più belle Più belle Che avessimo mai giocato Va bene ragazzi Siamo qui Ci vediamo domani Lunedì Parleremo di come sarà La nuova settimana E Saremo sempre qui Su Voodoo Manager 2018 Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi Per seguire Tutta questa partita Questo campionato E il resto Della mia carriera calcistica Come allenatore A domani Ciao 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 ciao